Mi è stato segnalato un problema delicato nel centro di accoglienza di extracomunitari a Forni. C'è stato qualche sera fa un episodio di un gruppo di extracomunitari che ha infastidito tre ragazze. Si è messo a seguire tre ragazze, poi le ragazze cambiavano strada, le seguivano, poi le spingevano. Sottolineo questo episodio anche all'attenzione della prefettura e della questura. Nessuno si permetta di fare quello che è stato fatto in queste serie. Grazie a Dio non è successo niente oltre lo stalking e il fastidio. Ma apriamo gli occhi e accendiamo i riflettori. Chi sta qui deve stare nel rispetto rigoroso delle regole, non solo delle leggi, ma anche delle regole di comportamento civile. Se no fuori, senza perdere tempo.